Prima la siccità, poi le trombe d'aria e la grandine. Soprattutto tra giugno e agosto il comparto agricolo della marca è stato messo a dura prova da un'estate calda e secca seguita dalle piogge intense delle ultime settimane che precedono l'autunno. I danni più rilevanti le hanno subite le colture seminative dei cereali e della soia oltre che le foraggere e dunque i prodotti vegetali che servono come nutrimento del bestiame con una perdita del raccolto che in alcune aree è stato del 100%. I danni maggiori si sono registrati nelle zone non irrigabili mentre dove l'acqua c'è gli agricoltori hanno potuto salvare le proprie produzioni. Dalle altre parti a seconda del tipo di terreno e delle situazioni insomma noi abbiamo danni medi sul mais attorno al 50% sulla soia dal 50 al 100% perché ci sono ripeto appestamenti che non hanno assolutamente il prodotto che è di fatto raccoglibile e ci sono danni importanti anche sulle foraggere con ripeto conseguente danno economico agli allevamenti che sono costretti ad acquistare sul mercato la materia prima per l'alimentazione a un prezzo che è sensibilmente aumentato fino al 25-30% in più delle normali condizioni di mercato. Quindi una situazione sicuramente difficile che ha portato lo stesso ministro con una dichiarazione fatta proprio ieri a dire che insomma qui l'emergenza c'è, si parla di danni che superano il miliardo di euro a livello nazionale. Una situazione che avrà ripercussioni dirette sui consumatori. Laddove l'acqua non è arrivata è evidente che ci sono ripercussioni in termini di valore alimentare di questi prodotti nel senso che un mais, un foraggio che ha sofferto la siccità dal punto di vista nutritivo naturalmente apporta anche meno sostanze quindi c'è un problema sia di quantità sia di riduzione del valore alimentare di questi beni.